Io lì francese di Firestorm, saluta Beh c'è mia zia che è qua con me, però mia zia non è Mario Carangelo Però dico mia zia è qua vicino a me nel mentre Comunque se mi chiedete chi è più forte che siamo uguali E' stupido No dai però dillo che poi pensano che sono nabbo Ti prego io sono fedele, sorry Ma però ho troppi mod Si è vero, ho troppi Comunque, no lui se l'ha preso Comunque ragazzi vi volevo dire che sono in live Quindi sentirete tutte le... Cioè se vedete che parlo è perché sono in live Però fra ammetti che siamo uguali comunque Ammettilo, ammettilo E' timida Eh certo che me li sono sparati Ti immagino di dire Tipo te li stai sparati Il lungo e il grosso è il ponte Comunque potevi dire prima Però Ah vabbè ma si infatti Se a quello hai ragione Ci stai allontanando Eeeh Allontanando Ecco Master Di andare a GameStop Eeeh Comprare Un videogioco da 50 miliardi di euro No scherzo Te lo dico in privato Perché poi lo dico a troppa gente Dove diventare raro questo piccone Quindi te lo dico in privato Magari te lo scrivo in una tua live Come... Ah nella tua ultima live Master te lo scrivo Cosa devi fare Che regalo questo Aspettagli spero Dai Aspetta bro No lo sparo No dai Eh non me lo prendi Aspettala Niente niente Eh sono troppo pro player Non sono assolutamente bot raga No no Guarda che invito Ma non è vero Master Talmente non è nessuna live Con quelle live si è fatta un mille riscolti e passa Cioè Vogliamo mettere Ah io e te Chi ha più spec Tu Ah quindi Player point Cioè non pensate ma Ok raga sono tutti i bot Meglio così Mega gamer bella Poi raga è l'ultimo che può Perché poi siamo occupati E siamo spiacenti Dai devo fare il mio record di kill Che sono a 10 kill raga Devo fare il mio record Non mi disturbate che devo fare il record raga Perché io Il mio record è 13 So che faccio Schifo appunto Devo migliorarlo Ho capito Ho capito che ho vinto Già con 11 kill prima Però fammi rivincere per favore Gioco l'ultima volta Ragazzi Spero di vincerla Perché niente Quando ho 10 kill Spero tanto di vincerla Allora ci sono vinto in persona Cerco E vabbè Gino Perché l'hai detto Vabbè Ve l'ha detto Gino Lo so Gino Però c'è gente che me lo chiede Quindi non lo so Gino Quindi No Non tocca Qui mi è entrata troppo gente Vabbè si entra subito però Vabbè Francesca Mi spiace Ho provato a farlo più possibile Ma guarda No Gino Vabbè Niente Ha eliminato il commento Ho scritto come si fa Vabbè Gino tranquillo eh Sto scherzando Appunto Volevo fare quello che faccio a ridere Franci ma tu arrivi poi Oh 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 Franci si è spostuto come te Sì vabbè si è zitta Nobba che Appunto Quando ti guardo Si muovono l'ultimo come te Non fare E con la verità Bravo Antonio Guardate raga Non mi interessa Se c'è il player Ma mi fermo Ah Google Cazzo No Oh ma chi Perché ha quitato Sapevo che stavo Facendo l'undicesima kill Oh stai fermo Io No Così No Dai farò di fuori il record Dai dai Quattro kill Quattro Mancano raga Se quattro kill Lascia me ne mi serve il record Dai Dai Gesù La sto registrando poi Comunque Bravo bravo Come fai a saperlo Ma no in live Eh no Andavo Qua Fra non parlare Mentre sbattigli Ma l'educazione Ti do la notte E vedo il preside Cosa Io ammazzo tutti Tanto Basta che Con la scorreggia Ammazzo tutti Franci Aia 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 Oh 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 Bro di qua Oddio Come va la serato Come va la serato C'è 19 di vita Bro Cazzo Cazzo Oh no C'è l'inbot C'è l'inbot Aia Aia Su Che è in bot Questo raga Bro ma non è un cacchieria In bot Perfente Ce l'hai un merighetto Per ripararti Le ferite Ce l'hai Io si Cazzo Quello magari è il l'inbot Ma bro veramente Come hai fatto Ma cosa grande Vabbè Grazie Dai ve li faccio tutti ormai No lasciami andare Sono troppo Non è vero raga Che sono tutti No No Dove è un'analisi Di più bro Le cose Che cosa Che non ho fatto Che non ho fatto Che cazzo hai detto Che palla No Non ho mai detto E cosa hai detto No copro Che copro Che vuoi che ci sia Di così pro Oh tieni Ci sono due culoni Non scherzo scudoni Grande No voglio giocare Un po' di più insieme Raga con tutti Dai Record Dilige Ok devo fare lo screenshot Fra fammi le foto No no Dai no no Di un altro kill pure Me lo supero Non me lo dire Attenzione No 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 Me lo dire No forse non lo voglio andare Cazzo fai Come sto cagato No Eh per colpa Di mia zia Non chiedo molto Lasciamelo Sì Raga No vabbè Stitto Mi han vinto Sono troppo forte Non ho incontrato Neanche un bot Raga Oddio Lo so Siamo Appunto Vedi Oh Quattro kill ti sei fatto Molto forte Grande brother Mi han incontrato Infatti Perché Ma chi Se l'abbiamo giù Ho capito Mi lasci l'ultimo Che così Faccio proprio Record kill Vole lasci per favore 18 kill Poi Cioè 17 kill Poi Vole lasci vero Apiconate L'ultimo Grazie Tieni 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 Ti regalo questo Come regalo Un mille di maz Vabbè Guarda che non hai detto Che è l'ultimo Che è un botto Magari Sparca tutto Dovano Sì Conti Ma dove sta poi È campeorato Ah Sta qua Sta qua Sta qua Segnala Non 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 Ucciderlo L'è Cido No Non Non Kill Dai Un botto Un botto Ma Manco Mi piglia Eh lo so Un botto Poverino Sa Sono più forte di te Cazzo E nienta No le statistiche Togliti Fra Fai le statistiche Togli poi Le statistiche Toglile Rimettile Sbagli No Ho sbagliato Rimettile Ho fatto 200 Ho fatto uguale Ok Sono troppo forte Ragazzi E niente Bello